Questo è un concetto vero, deve essere conosciuto in modo adeguato. La saliva contiene calcio e fosforo che possono in qualche modo equilibrare la decalcificazione del dente indotta da sostanze acide, chiaramente prima che questo danno sia troppo avanzato. Quindi diciamo che in una fase iniziale della lesione cariosa il poter utilizzare prodotti a base di fosforo, il poter utilizzare, cambiare le abitudini alimentari di generale può portare a una ricalcificazione dello smalto dentale che è poi la nostra coperta, cioè quello che previene ulteriori danni al dente.